bene amici insomma mica tanto sembrava troppo bello infatti tridico proprio oggi in audizione alla camera beh batte in ritirata con la coda tra le gambe e poi arrivano anche notizie anzi toppe per cercare giustificazioni ai ritardi incresciosi in tema di pagamento ovviamente reddito di emergenza e assegno unico ponte e no non hanno finito i soldi come sostiene qualcuno peggio senza indugi partiamo io sono mister lul sigla prima mi raccomando un bel like per sostenere il video il canale l'iscrizione col campanone che assolutamente gratuita e utile per rimanere sempre aggiornati e poi se volete aiutare il canale c'è anche il tasto abbonamentone adesso sì sigla insomma che tristezza un tridico tutto scatenato arzillo pochi mesi fa proprio in audizione alle camere ci presentava il suo progetto di internalizzazione del contact center con assunzione degli attuali operatori che debitamente formati sarebbero poi diventati funzionari telematici interni inps e avrebbero così svoltato i servizi di assistenza al cittadino ma come vedete proprio quest'oggi giravolta ancora per un anno le cose resteranno tali e quali con il contact center che continuerà ad essere esternalizzato appaltato e i problemi rimarranno irrimediabilmente gli stessi il motivo è abbastanza semplice e potevano immaginarselo anche prima cito per assumere 3000 persone serve una selezione pubblica che prende ovviamente tempo non possiamo interrompere il servizio si deve tutelare l'occupazione giusto e poi migliorare la qualità dei servizi tutto bellissimo fatemi sapere nei commenti la vostra ma andiamo avanti e in tema sempre di cortocircuito informativo arriviamo finalmente ai pagamenti di reddito di emergenza bis e assegno unico o meglio i non pagamenti ricevo praticamente solo commenti come questi che vedete sotto qualsiasi video anche se parlo di pensioni il commento più gettonato è ma il rem ma l'assegno unico e lo capisco è il motivo è evidente l'emergenza il disagio la necessità impellente di un aiuto di un sostegno che però non arriva hanno finito i soldi no gli stanziamenti ci sono le disponibilità ci sono anche per il rem ma è proprio la macchina inps che pur passando i mesi è sempre più ingolfata a loro modo i social provano a metterci una toppa a giustificare queste ritardi si prendono un sacco di insulti dagli utenti diciamocelo e per l'assegno unico sia da twitter che da inps per la famiglia vanno a nascondersi dietro alla necessità di fantomatici controlli più approfonditi su isediformi nuclei con diritto magari potenziale anche agli anf eccetera eccetera insomma un bel minestrone per quanto riguarda invece l'integrazione di assegno unico su rdc si parla dal 15 settembre in poi e meno male che almeno su questo fronte non ci sono volta faccia e adesso reddito di emergenza o reddito di pazienza come ha scritto qualcuno di voi insomma un laconico come leggete e generico dal 15 quando invece il dirigente inps ci aveva proprio rassicurato che per questa settimana sarebbero stati aggiornati i fascicoli previdenziali con le nuove disposizioni io resto tra enormi virgolette fiducioso entro il 9 voglio sperare come sarà detto che le direzioni centrali riescono effettivamente a sbloccare questo impasso questo brutto questo bruttissimo casino in modo poi da disporre i pagamenti davvero per almeno la metà del mese prima di chiudere domani ho appuntamento per sentire direttamente mister x mister imps e se avrò conferme aggiornamenti importanti concreti ve li riporterò immediatamente altrimenti su questo argomento andrò in silenzio stampa finché non usciranno le date nei fascicoli detto questo come sempre vi saluto vi ringrazio spero che questo breve aggiornamento sia stato utile mi raccomando se così fatemelo sapere con un bel like per aiutare il video il canale l'iscrizione mi raccomando anche con la campanella tutto assolutamente gratuito e poi se volete aiutare il canale beh c'è anche il tasto abbonamentone alla prossima grazie da mister lull grazie a tutti